Rilevatore di tensione EO Multimetro Beside A1AX, il tester digitale a penna. Il Multimetro Beside A1AX, oltre ad essere un classico tester digitale multifunzione, fa anche da rilevatore di tensione, utile per capire quale cavo è la fase oppure come trovare facilmente un cavo interrotto. In base all'utilizzo e al tipo di rilevazione da effettuare, impostiamo il nostro multimetro pigiando sul tasto della selezione Allarme, Tensione Sonoro e Illuminazione LCD Rosso-Verde. Utilizzando il tester in questo modo, rileviamo il cavo di fase con semplicità, con il bip sonoro e la segnalazione LCD di colore rosso. Mentre sul cavo di neutro, sulla parte non alimentata, non rileva alcun segnale né sonoro né dal colore. Piggiando sul tasto della selezione Allarme e Tensione Massima, possiamo individuare i cavi alimentati, quindi daranno massima allerta con il bip sonoro e luce LCD di colore rosso. Se ci troviamo davanti ad un cavo alimentato, ma non funzionante e bisogna intercettare l'interruzione con questo tipo di multimetro a rilevatore di tensione, lo possiamo utilizzare in modo molto semplice. Facendo passare su tutto il tratto del cavo della parte superiore della penna a multimetro, vedremo che al punto interrotto il bip sonoro e l'illuminazione LCD a colore rosso cessano di segnalare e rimane illuminato a verde. Ripassiamo la zona in modo da intercettare con precisione il punto di interruzione del cavo. Come si può vedere, si è trovato l'interruzione del cavo in modo molto facile e veloce. Con questo multimetro digitale multifunzione potrai rilevare qualsiasi elemento di misura in pochi e semplici modi senza difficoltà. Rimani aggiornato e seguimi per altri contenuti. A presto!